buongiorno siamo qua secondo giorno di regata della palermo monte carlo sono le 11 di mattina ciao ragazzi salutate questa mattina eravamo molto contenti abbiamo avuto un po di vento da ovest da est scusate che ci ha portato avanti per un po di miglia abbiamo navigato così per circa quattro ore a 9 10 nodi adesso purtroppo è mollato tutto i nostri avversari sono lì in vista vediamo black pearl 6 miglia dietro uopi sappiamo circa 12 13 miglia dietro e stiamo lentamente andando verso la primo gate di porto cervo